L'argomento della video-lezione di oggi è l'imperatore Costantino, che ha regnato dal 313 d.C. fino al 337. Affronteremo appunto questa figura di questo imperatore andando ad analizzare alcuni degli aspetti della sua politica, come per esempio una politica che ha avuto nei confronti dei cristiani. Quindi Costantino si convertì al cristianesimo, oppure usò i cristiani per mantenersi al potere. Questi ed altri problemi cercheremo appunto di affrontarli nella lezione di oggi. Quando Diocleziano organizzò questo sistema tetrastico per poter appunto governare meglio l'impero romano, aveva davanti a sé due problemi molto molto delicati. La grandezza dell'impero romano, che seppure non avesse aggiunto altre province nel corso di questi anni, diventava sempre più un problema di gestione, perché c'erano moltissime spinte centrifughe e si aveva sempre più difficoltà a controllare il confine, soprattutto con popolazioni appunto barbare germaniche che costantemente spingevano sul confine e che talvolta insomma lo avevano anche oltrepassato ben prima del 476. Ma l'altro problema che Diocleziano aveva, che preoccupava Diocleziano, era quello del momento della successione. Diocleziano si era reso conto che uno dei momenti più delicati, che ha creato grandi crisi e ovviamente momenti difficili per l'impero romano, era quello della successione. Cioè quando Marie moriva un imperatore e saliva al potere un altro. E per questa ragione aveva, l'abbiamo visto nella via lezione su Diocleziano, aveva organizzato la tetrarchia in cui non soltanto i due Augusti si erano divisi il potere, ma addirittura aveva nominato due cesari proprio per ovviare al problema della successione di cui abbiamo detto poc'anzi. Non contento di questo, nel 305 Diocleziano convince Massimiano a dimettersi per vedere appunto come funzionava questo passaggio. E quindi gli Augusti, fino al 305 Diocleziano e Massimiano, si dimettono permettendo ai due cesari, che fino al 305 erano Galerio e Costanzo Cloro, di diventare Augusti dal 305 in poi. I due Augusti, Galerio e Costanzo Cloro, a loro volta, appena appunto diventati imperatori, hanno nominato come propri successori e anche come collaboratori nella gestione dell'impero romano, i due cesari, e cioè Massimino D'Aia e Flavio Valerio Severo. Siamo al 305 e sembra che le cose procedano come era l'intenzione di Diocleziano. Ma il problema si evidenzia innanzitutto nella parte occidentale dell'impero, perché nel 306 muore Costanzo Cloro. E quindi, come da regola, Flavio Valerio Severo, che appunto era il suo cesare, sarebbe dovuto diventare l'Augusto appunto al posto di Costanzo Cloro. Ma le cose non andarono come era l'intenzione di Diocleziano, e questo perché arrivano a ribalta due personaggi, Costantino e Massenzio, il primo figlio di Costanzo Cloro e il secondo figlio di Massimiano. Il mondo romano si spacca perché le truppe devote appunto a Costanzo Cloro oppongono a queste elezioni di Flavio Valerio Severo quella del figlio di Costanzo Cloro, cioè Costantino, e in qualche modo anche a Roma i pretoriani si oppongono sempre all'elezione d'Augusto di Flavio Valerio Severo, questa volta opponendoli il figlio di Massimiano. Quindi, di fatto, sia le truppe devote a Costanzo Cloro che i pretoriani volevano che passasse il principio in qualche modo dinastico. piuttosto che invece un altro principio, quello appunto scelto da Diocleziano. Lo scontro fu inevitabile e dopo che Costantino nel 312 ha sconfitto a Verona le truppe di Massenzio, sconfisse sempre nello stesso anno, qualche mese dopo, e questa volta definitivamente lo stesso Massenzio sul Ponte Emilio. Molto si discute poi di quello che successe naturalmente sul Ponte Emilio, ma torneremo a breve su questo aspetto. Costantino, ormai padrone della parte occidentale dell'impero romano, si rivolge alla parte orientale. Nel 313 si allea con Licinio, che era un governatore di una delle province, ma era un personaggio molto, molto influente. E Costantino promette appunto il suo appoggio a questo governatore, perché Licinio mira a diventare Augusto. Tanto è vero che appunto sempre nello stesso anno sconfigge Massimino d'Aia e di fatto diventa Augusto d'Oriente. E per una decina d'anni dividerà il potere con Costantino, anche se di fatto alla prima alleanza appunto con Costantino, dopo qualche anno cominciarono a crescere i malumori per alcune decisioni che non furono prese in maniera molto condivisa. E qui rientrò anche il problema dei cristiani. Ma andiamo per gradi. Parliamo appunto del rapporto tra Costantino e il cristianesimo. Qui lo vediamo appunto effiggiato l'imperatore in un mosaico di ispirazione ovviamente cristiana. Durante la battaglia di Pontenilvio si riporta appunto la tesi di Eusebio di Cesarea, il racconto appunto di Eusebio di Cesarea, secondo il quale l'imperatore ebbe un sogno profetico e in questo sogno appunto veniva invitato lo stesso imperatore ad apporre alle truppe, quindi sugli scudi delle proprie truppe, il segno della croce. Questo segno lo avrebbe protetto il giorno dopo nella battaglia contro appunto Massenzio. Questa appunto tesi, questa notizia appunto riportata da Eusebio di Cesarea farebbe pensare appunto a Costantino che da questo momento se non altro per come altro di ringraziamento per la vittoria ottenuta contro appunto il suo avversario si sia convertito al cristianesimo o anche senza arrivare alla conversione cosa appunto di cui non abbiamo notizia qualcuno dice un punto di morte ma comunque senza arrivare alla conversione al cristianesimo dobbiamo pensare che questo sogno profetico che diede a Costantino una vittoria contro Massenzio fece in modo che Costantino per sdebitarsi di tutto ciò avesse avuto durante il restante periodo di regno una particolare attenzione nei confronti dei cristiani che poi appunto vedremo come questa particolare attenzione si realizzerà secondo altri invece e qua è un problema che non possiamo naturalmente dare risposta certo è perché gli storici sono divisi Costantino utilizzò il cristianesimo come elemento di coesione dell'impero cioè Costantino da ottimo uomo politico capì che era inutile come forse aveva fatto gli ocleziano come anzi aveva fatto gli ocleziano e anche altri imperatori opporsi ai cristiani ma che forse sarebbe stato più salutare per l'impero romano allearsi con i cristiani e quindi di fatto interrompere queste persecuzioni fatto sta che nel 313 dopo Cristo Costantino emanò l'editto di Milano che cosa si sanciva in questo editto? beh il principio più importante è la libertà di culto nell'impero romano cioè il cristianesimo non era più una religione che doveva essere perseguitata quindi i cristiani potevano liberamente svolgere i propri riti religiosi quindi professare la propria fede ma l'editto prevedeva anche altre cose la restituzione per esempio di quei beni che di ocleziano aveva espropriato alle comunità cristiane e alle stesse comunità cristiane fu concesso anche una sorta di esonero fiscale e dei tribunali ecclesiastici proprio per dirimere le questioni in materia religiosa per le comunità naturalmente cristiane ma non solo fu molto prodigo nell'elargizione di terreni su cui potessero costruire appunto delle chiese l'avevamo detto qualche slide fa e i rapporti tra Costantino e Licinio divennero subito non facili e si inaspirano in base sulla scorta dopo alcune decisioni prese da Costantino che non piacevano a Licinio uno dei campi di contrasto fu proprio questa grande apertura che Costantino aveva fatto nel 313 con l'editto di Milano ma anche negli anni successivi concedendo sempre più elargizioni o benefici o privilegi ai cristiani e così questi due augusti si trovarono appunto l'uno contro l'altro in campo aperto nel 324 Costantino sconfisse Licinio e così rimase unico imperatore dell'impero romano ovviamente la prima preoccupazione nello stesso anno che ebbe Costantino fu quello di insediarsi nei territori che erano stati governati da Licinio per controllarli meglio quindi stare appunto il più vicino possibile perché Licinio era un imperatore che abbiamo visto grande influenza nella zona orientale dell'impero e così decise di fondare una nuova capitale a cui assegnò appunto il suo nome nacque Costantinopoli Costantino naturalmente si prodigò in tutti i modi per permettere appunto il trasferimento delle persone in questi territori in questi terreni che poi appunto che erano stati scelti per ospitare la capitale esenzioni fiscali privilegi di ogni tipo per appunto permettere che questa città costruita così voluta del niente costruita da Costantino potesse insomma diventare la capitale dell'impero romano quindi abbiamo detto motivi politici spingono Costantino a scegliere questa capitale li abbiamo visti appunto i motivi politici nei confronti di Licinio ma anche nei motivi politici nei confronti della vecchia capitale dell'impero romano e cioè Roma perché è vero che Roma già aveva perso molto il suo potere con la riforma amministrativa di Diocleziano però è anche vero che lì ancora continuava a risiedere il senato e alcune istituzioni erano specifiche solo della città romana e così Costantino decise di riproporre in questa sua città le stesse istituzioni romane quindi un senato quindi istituzioni specifiche come le aveva Roma e ovviamente questa fu una mossa politica molto interessante perché Costantino aveva la necessità proprio di screditare la città di Roma e quindi di fatto insomma cercare di avere in questa zona che era la zona influenza di Licinio di avere la sua roccaforte del potere e quindi per ridurre al silenzio qualsiasi possibile diciamo ribellione da parte della città di Roma ricordiamoci che appunto Costantino arrivò al potere anche scontrandosi con Massenzio che era voluto dalle truppe pretoriane romane però Costantinopoli la posizione appunto dove è stata collocata è anche una posizione strategica molto interessante è molto più vicina al confine orientale rispetto alla città di Roma ed è anche molto più vicina al confine con i parti che da sempre hanno rappresentato un pericolo per l'impero romano le riforme di Costantino non riguardano appunto tre settori quello amministrativo quello dell'esercito e quello monetario per quanto riguarda la riforma amministrativa dobbiamo segnalare la creazione parte di Costantino di una burocrazia fortemente centralizzata degli uffici possono ricordare i nostri ministeri che dovessero fornire all'imperatore immediatamente la situazione di ogni parte e ogni territorio dell'impero romano quindi una fortissima centralizzazione della burocrazia per permettere all'imperatore di avere sempre il quadro della situazione ben presente un quadro della situazione doveva essere il più chiaro possibile e il più preciso possibile Costantino continuò possiamo dire la riforma cominciata da Tiopleziano dell'esercito in particolare applicò anche nell'esercito il principio dell'ereditarietà della carica e fece in modo in tutti i modi possibili e immaginabili di coinvolgere sempre più Germani nell'arrolamento dell'esercito la riforma monetaria di Costantino fu una riforma particolarmente gravosa per i ceti medi e anche per il popolo perché? perché istituì il solidus cioè una moneta d'oro istituire una moneta d'oro per far fronte all'atavico problema dell'impero romano cioè quello di una inflazione devastante spesso non sotto controllo fu una concessione che Costantino fece ai ceti più più ricchi che potevano appunto permettersi una moneta d'oro ma ai ceti più bassi al popolo questo fu effettivamente una riforma particolarmente pesante tanto è vero che spesso tornarono al baratto per quanto riguarda gli scambi commerciali sia di materie sia di situazioni di beni di prima necessità sia anche di altri beni ci avviamo alla conclusione di questa lezione su Costantino analizzando un altro aspetto di questa necessità di questa volontà centratrice di Costantino che abbiamo visto per esempio nella riforma amministrativa ma anche nella scelta di una sola capitale quindi non più due parti dell'impero ma un solo impero con una sola capitale parliamo di cesaropapismo cesaropapismo un termine appunto che qui si può evidentemente intuire la costruzione appunto linguistica una prima parte fa riferimento all'autorità più importante in ambito laico il cesare appunto e altra parte un riferimento all'autorità più importante in materia religiosa di fatto per cesaropapismo noi intendiamo l'ingerenza dello stato del potere laico nelle questioni teologiche e religiose se in effetti Costantino scelse quindi nominò di suo pugno i capi delle comunità religiose e quindi suo fu una politica di forte ingerenza non soltanto nell'aspetto organizzativo della comunità cristiana ma anche nelle questioni dottrinarie come per esempio nel caso della convocazione del concilio unicea nel 325 per dibattere la questione dell'arianesimo Ario distingueva la figura di Gesù dalla figura di Dio non ritenendolo una stessa persona quindi con riconoscendo in Gesù vero uomo in Dio vero Dio e questa interpretazione minava con il non soltanto una certa interpretazione dei testi religiosi interpretazione insomma che poi è quella che abbiamo anche noi naturalmente oggi ma soprattutto minava con questa moltiplicazione delle figure che in qualche modo disorientava Costantino che appunto voleva ci fosse una unità appunto anche in queste materie dottrinarie e così scomunicò e fece in modo che il concilio inicea votasse per la sua proposta cioè la scomunica di Ario e dell'Arianese di Ario di Ario Grazie a tutti